Vaccini e gestione dell'epidemia tra i temi del G20, i grandi del mondo, si impegnano a distribuirli in modo equo. E intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità mette in guardia, senza provvedimenti adeguati l'Europa rischia una terza ondata. Angelo Figorilli. Già la rituale foto di famiglia, diventata gioco virtuale sulle vecchie mura di Riyadh, fa capire che il tema pandemia è ormai un terreno obbligato di confronto. Anche il vertice dei capi di Stato e di Governo dei 20 Paesi più importanti del mondo è stato infatti virtuale. Ma sul coronavirus ha riconosciuto che ha aumentato le disuguaglianze, che è essenziale garantire l'educazione scolastica il più possibile in presenza e sui vaccini soprattutto ha lanciato un segnale importante. Nel documento finale si legge infatti non risparmieremo sforzi per assicurare un'equa distribuzione dei vaccini contro il Covid e anche il sostegno ai Paesi più poveri e indebitati per affrontare l'emergenza. Più in là però non è andato. Non si spiega come assicurare questa distribuzione perché le posizioni tra i diversi Paesi sono ancora molto distanti. C'è chi come la tedesca Merkel spinge per l'adesione al progetto COVAX dell'OMS, chi come il francese Macron invece chiede ai Paesi più forti di acquistare direttamente dosi da cedere poi ai Paesi più deboli. E tutto questo mentre proprio l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per bocca del suo inviato David Nabarro, mette in guardia l'Europa soprattutto dal rischio concreto di una terza ondata della pandemia. I governi hanno mancato di costruire le infrastrutture necessarie durante l'estate, dice Nabarro. Ora il pericolo si fa concreto e invita l'Europa a resistere alla tentazione di allentare troppo rapidamente le misure restrittive.